Signori, il più grande spadaccino di Francia. D'Artagnan. D'Artagnan? Mia regina. È in atto un massacro. Raduna i moschettieri. Paralà! Stiamo giocando Porto. E' ridotto come una calza bucata. A volte ti guarda negli occhi e ti fissa. Troppo vino. Ma vive sotto quelle tette. Questo te... Maestà, pardonate. Se ero apparente che la festa era così durevole, schiacciavamo un fiselino. Ma come cazzo parlo? Sono cavalli speciali. Si chiamano 1, 2, 3 e 4. Ma poi uno come fa a riconoscere? Sono tutti uguali. Dal nome, no? 1, 2, 3, 4. Ma ti hai contato da là? Prova a contare da là. Ma che sei matto? Ma il regno. Chi siete? Atto Saramista Tagnani e Porto. Moschettieri! All'epoca non avevo ancora incontrato Dio. Ti hai incontrato Dio, tu? Ma cosa? E dove? Ma è un modo di dire. Dai! Lo so che è un modo da dire. Quindi chiedi dove vuol dire che non lo sai. Se io voglio dire dove, lo dico. Dillo, vai. Dove, dove, dove? Però se non possiamo neanche uccidere a sangue freddo, allora lasciamo Baracca, Buratino e dove? Fan di Jim Carrey, sapevate che questo meraviglioso attore rifiutò il ruolo di Edward Mani di Forbice che alla fine fu affidato a Johnny Depp? Ruolo che si è rivelato essere rivoluzionario, veramente importantissimo per la carriera di Johnny Depp e il suo sudalizio poi con Tim Burton. Voi ce l'avreste visto, Carrey, in quel film? Fatemi sapere nei commenti. E se vi piace la maglietta che indosso potete trovare dove acquistarla nel link qui sotto in bio. Ciao da Valeria!